Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Questo ragazzi è un video che mi avete chiesto di fare da davvero tanto tempo. Parliamo di un serial molto famoso, sia per la violenza e la malvagità dei suoi crimini, sia perché è riuscito a terrorizzare con le sue gesta una delle più note metropoli statunitensi. Ossia Los Angeles. Questa è la storia del cacciatore della notte o se preferite The Night Stalker. Vi sto parlando di Richard Ramirez, o meglio Riccardo Richard Munoz Ramirez, che nasce il 29 febbraio del 1960 a El Paso, in Texas, da Julian e Mercedes Ramirez. Richard ha tre fratelli e una sorella maggiore, quindi l'ultimo dei cinque figli. I genitori di Richard sono immigrati messicani e sono anche dei gran lavoratori. Il padre inizialmente in Messico lavora come poliziotto, ma una volta che la famiglia si trasferisce in America cambia lavoro. L'uomo infatti lavora alla posta delle rotaie della ferrovia di Santa Fe, mentre la madre fa l'operaia e lavora nella fabbrica di calzature Tony Lama, dove ha contatto con sostanze chimiche e coloranti per il trattamento del cuoio. Un particolare sicuramente interessante di questo caso è il fatto che alcuni hanno provato a spiegare la malvagità di Richard su base genetica, appoggiandosi al fatto che i genitori sono stati precedentemente esposti a radiazioni chimiche. Inoltre la madre, proprio mentre è incinta di Richard, lavora a contatto con sostanze tossiche, tanto che la donna sviene a lavoro cinque mesi prima della nascita di Richard ed il dottore, dopo averla visitata, le ordina di stare a casa fino al termine della gravidanza. E infatti la donna a lavoro ci torna dopo la nascita di Richard. Richard in generale ha un temperamento calmo, tranquillo, e sua sorella Ruth gli è molto affezionata, in quanto passa molto tempo col piccolo Richard e se ne occupa volentieri quando sua madre non può farlo. Il padre di Richard è davvero un lavoratore instancabile, fa di tutto per mantenere sua moglie e i suoi figli, però ha un temperamento davvero, davvero aggressivo. Si arrabbia molto facilmente per qualsiasi cosa, mettendo le mani addosso sia sua moglie che i suoi figli per delle sciocchezze, in quanto non sa proprio controllarsi. Richard è un ragazzo abbastanza tranquillo, come vi dicevo, va d'accordo un po' con tutti. Solo più tardi i suoi genitori scoprono che soffre di epilessia, però questa epilessia non è spuntata fuori così casualmente. Infatti Richard subisce per ben due volte due colpi alla testa. La prima volta accade quando ha due anni e un pezzo d'armadio cade e gli finisce in testa. Riceve nuovamente un colpo in testa all'età di 5 anni da un'altalena a scuola. Il colpo è così forte che Richard perde i sensi. Inoltre Richard è di costituzione molto esile. I suoi lineamenti sono considerati molto femminili, ecco perché è spesso oggetto di derisione da parte del prossimo. Richard, già da giovanissimo, ha un sogno, vuole diventare famoso. E nonostante i genitori desiderino il meglio per i loro figli, la situazione in famiglia, ahimè, è parecchio complessa. Joseph, il fratello più grande, soffre di deformazioni osse causate molto probabilmente dalle mutazioni genetiche che hanno colpito le cellule seminali dei suoi genitori e dovute all'esposizione alle radiazioni. Gli altri due fratelli, Roberto e Ruben, presentano problemi comportamentali. L'evoluzione caratteriale di Richard arriva ad un punto di non ritorno quando inizia a legare sempre di più con suo cugino, ossia Miguel, detto anche Mike. Richard passa molto tempo con lui e si affeziona tantissimo a Miguel, tanto da considerarlo un sostituto di suo padre. Miguel, o Mike, come preferite, è un berretto verde, quindi ereduce del Vietnam. E ovviamente l'atroce esperienza della guerra lo ha segnato nel profondo. Quando Miguel torna in America, si vanta raccontando gli omicidi e le torture che ha inflitto alle sue vittime, donne, uomini, bambini. Insegna quindi a Richard, che a quel tempo è un ragazzino, che uccidere è la cosa più eccitante del mondo, in quanto ti dà potere, ti fa sentire Dio. Gli incontri fra i due si trasformano spesso in lunghi pomeriggi, passati a guardare fotografie scattate in guerra. Non mancano quindi le mutilazioni, i nemici tratturati e le donne seviziate. Richard, ahimè, rimane profondamente affascinato da tutto ciò. Poi, ecco che nel quadro del rapporto con Miguel, spicca un elemento. Un evento davvero, davvero tragico, ma allo stesso tempo molto importante per Richard. Infatti, un giorno Richard è a casa di Mike e quest'ultimo inizia a litigare con sua moglie. Questa discussione si accende un po' e peggiora di secondo in secondo. Fino a quando Mike afferra una pistola, la punta in faccia a sua moglie e fa fuoco, freddandola sul colpo. Con Richard, Ri, presente. Addirittura, secondo delle testimonianze, Richard viene ritrovato totalmente imbrattato di sangue. Dopo questo crimine, ovviamente, Miguel viene spedito in un ospedale psichiatrico. Ed è proprio da quest'ultima esperienza che si palesano le prime trasformazioni a Richard. Infatti, inizia a marinare la scuola e diventa un consumatore abituale di erbetta. Quella del prato. YouTube se no si emoziona. Passa un'estate a Los Angeles, da suo fratello Ruben, che nel frattempo è diventato anche lui un consumatore di sostanze. Purtroppo, però, non quelle reggere. Ruben fa uso di Hero. YouTube si emoziona, ma ci siamo capiti. Ed è diventato uno svariggiatore. Ruben manifesta sempre di più una sottospecie di iperattività. Di frenesia, ha voglia di muoversi continuamente, di fare qualcosa. Dopo l'estate passata a Los Angeles, Richard torna a El Paso, a casa dei suoi genitori. Però i contrasti con loro continuano a crescere e Richard in quella casa proprio non riesce a starci. Infatti, talvolta, il padre lo picchia brutalmente e Richard è spaventato da lui. Fino a che, a un certo punto, Richard, stanco delle botte, semplicemente scappa. In quanto sua sorella Ruth, nel frattempo, si è sposata con un certo Roberto. Insomma, anche questo Roberto non è proprio del tutto inquadrato. Diciamo così. Ha dei problemini ed è ossessionato dalle cose intime. O meglio, è un guardone. Quindi cosa fa Roberto? Roberto prende Richard, lo porta con sé e i due insieme iniziano a scegliere delle case dove di notte si appostano fuori dalle finestre spiando le donne che si spogliano o che sono in bagno. Oltre all'erbetta, quella del prato, Richard ama particolarmente altri tipi di sostanzine, ossia quelle psichedeliche. inoltre si appassiona particolarmente alla musica rock e devil metal. Ah ma, nello specifico, il gruppo australiano ACDC. Ora però, c'è un problema, Richard non si limita solo a consumare erbetta. Quindi, per riuscire a mantenere il suo vizio, deve iniziare a rubare. E infatti, per un periodo, lavora in un hotel, a Holiday Inn. E che fa Richard a Holiday Inn? Beh, usa la sua card per entrare nelle stanze degli ospiti mentre non sono presenti per rubare tutto, per svaliggiare la camera. Però, nel frattempo, le sue fantasie intime crescono. Quindi Richard inizia a intrufolarsi nelle camere delle donne, a nascondersi dietro pesanti tendaggi e a spiarle. La sua ossessione lo porta una sera ad entrare con la sua card in una camera che pensa sia occupata solo da una donna, però in realtà è occupata da una coppia. In quel momento il marito di quella donna non è in camera e quindi Richard prova a fare violenza intima su di lei. Fortunatamente viene bloccato all'improvviso dall'arrivo del marito di quest'ultima. Arriva il 1977 quando suo cugino Miguel o Mike esce dall'ospedale psichiatrico dove era stato ricoverato per l'omicidio della moglie e rincomincia a frequentare Richard il quale lascia la scuola al primo anno di liceo. È in questo periodo che Richard diventa un vero e proprio ladro sempre più esperto nelle tecniche di svaliggiamento. A questo punto Richard tenta di darsi un aspetto il più possibile orrendo in un certo senso demoniaco a causa delle sue abitudini alimentari a causa delle sostanze a causa della trascuratezza a Richard ben presto si rovinano tutti i denti e inizia a soffrire di una tremenda litosi che diventa parte del suo personaggio demoniaco diciamo così. Arriva il 1978 Richard ha 18 anni e si trasferisce nel sud della California. nel 1981 viene arrestato per furto d'auto a Pasadena e per lo stesso motivo viene arrestato anche a Los Angeles nel 1984. Dei suoi primi anni di vita californiana bisogna ammetterlo non si sa molto. Sicuramente Richard abita in differenti città da San Francisco a Los Angeles. Non si sa molto cosa abbia fatto Richard però c'è una sicurezza. In questo periodo le sue attività criminali subiscono un incremento notevole. L'unico rapporto che ha con le donne è di tipo intimo con le prostitute. In carcere Richard conosce un ragazzo satanista e quindi inizia a leggere i libri di Anton Zandor Lavei. Il satanismo di Lavei o satanismo laveiano spero di averlo pronunciato bene talvolta anche chiamato satanismo razionalista è una visione del mondo e della vita ufficialmente praticata dalla chiesa di Satana. Ed è stato proprio Lavei un esoterista uno scrittore e un musicista statunitense a fondarla. C'è da dire però che Richard non ama aggregarsi per fare riti comuni no lui è tipo più solitario l'uomo preferisce rimanere da solo anche perché sente di essere diverso dagli altri anzi è proprio convinto di essere diverso dagli altri col tempo diventa sempre più abile a introdursi nelle case per svaleggiarle inizialmente le intrusioni di Richard ovviamente sono veloci a te sola a finalizzare un furto per poi fuggire altrettanto velocemente ma quel tempo Richard inizia ad acquisire una certa fiducia quindi combina la sua attività di furto con le sue fantasie intime piccantine di conseguenza inizia a trattenersi un po' più a lungo nelle case svaleggiate dove oltre agli oggetti di valore porta via anche qualche souvenir ossia degli oggetti che appartengono alle donne di casa il primo omicidio accertato di Richard avviene il 28 giugno del 1984 la vittima è Janine Winkle di 79 anni residente a Glossal Park a Los Angeles Janine vive in un appartamento al pian terreno e quella del 28 giugno è davvero una notte molto molto calda quindi fa la cosa più normale del mondo lascia aperta la finestra per permettere un po' di circolazione d'aria Richard ne approfitta assale l'anziana che dorme prima colpendola con un coltello sul petto e poi fino a quasi staccarle la testa si dilegua portandosi dietro qualsiasi oggetto che potrebbe avere un minimo di valore il figlio di Jenny che vive al piano di sopra ritrova la madre la mattina dopo chiama quindi la polizia vengono effettuati dei rilievi ed emergono alcune impronte digitali sulla finestra che però non portano a nulla inoltre non ci sono segni di violenza intima sulla donna la notizia di questo crimine non ha molta risonanza arriviamo al febbraio del 1985 quando Richard fa cosa inappropriata ad una bambina di 6 anni e fa violenza su un'altra bambina di 9 dobbiamo ovviamente sottolineare che è orribile ciò che ha fatto nel mese di febbraio Richard però abbiamo un dato di fatto dopo quel primo omicidio l'uomo se ne sta buono per un po' non colpisce più nessuno almeno fino al mese di marzo 1985 e in effetti il 1985 è l'anno nel quale scoppia totalmente la sua furia gettando nel panico tutta Los Angeles arriva il 17 marzo del 1985 sono le 10.30 di sera e Richard entra in un condominio nascondendosi in un garage dove Maria Hernandez ha appena parcheggiato la sua auto dopo essere tornata da lavoro Richard fa fuoco contro Maria Hernandez crede di aver raffreddata quindi entra nel suo appartamento ma in realtà quella donna è ancora in vita in quanto il mazzo di chiavi che stringe in mano ha deviato la pallottola di Richard perché Richard ha fatto fuoco e la donna ha fatto questo gesto quindi di conseguenza la pallottola ha rimbalzato sul mazzo di chiavi e Maria non è morta è sopravvissuta quindi di conseguenza la donna presa dal panico che cosa fa si alza e se la dà a gambe perché ovviamente ha provato davvero ad ucciderla questo aggressore quindi per lei è meglio allontanarsi però appena inizia a scappare sente degli spari in lontananza sente degli spari che più che altro arrivano dal suo condominio e immediatamente pensa alla sua coinquilina è per questo motivo che Maria torna indietro però purtroppo è troppo tardi e quando entra nell'appartamento fa appena in tempo a rivedere l'aggressore che sta fuggendo la sua coinquilina di Eilo Kazaki di 34 anni viene trovata in casa senza vita in un lago di sangue l'appartamento risulta in disordine ed è stato svaleggiato nella stessa notte l'uomo assale un'altra donna per strada lei si chiama San Lian Yu è detta anche Veronica ed è una trentenne nativa di Taiwan Richard le spara diverse volte mentre è in macchina però poi fugge lasciandola lì sul posto nella sua macchina e questa cosa è davvero davvero strana perché in realtà Richard ha colpito quella donna per rubarle la macchina aveva bisogno di un mezzo per spostarsi una volta che era riuscito a farla fuori lascia lì donna e macchina e scappa via Veronica però la povera ragazza non viene colpita a morte passa ore di agonia prima di venire a mancare sempre lì nella sua auto la stampa a questo punto soprannomina Richard come il Deval Alain Trudor arriva il 19 marzo sono solo passati due giorni da quando Richard ha colpito l'ultima volta avvicina quindi una ragazza di 18 anni di nome Igor Rock e fa violenza su di lei arriva il 27 marzo del 1985 quando Richard entra nell'abitazione di Vincent Zazzara e di Maxine Zazzara verso le due del mattino Vincent ha 64 anni ed è il gestore di una pizzeria mentre Maxine sua moglie che gli dorme accanto ha 44 anni ed è una procuratrice Vincent viene immediatamente freddato con un colpo alla testa mentre purtroppo Maxine viene picchiata a lungo dopodiché l'uomo lega Maxine e inizia a cercare cose di valore per sbaleggiare la casa Maxine però è riuscita a liberarsi a slegarsi e sa che il suo marito sotto il letto tiene una pistola quindi a questo punto Maxine scende lentamente dal letto mette la mano sotto il materasso prende la pistola Richard entra in stanza lei gli punta la pistola spara e la pistola non fa fuoco perché non è carica Richard ovviamente è così arrabbiato che si fionda su di lei fa violenza su quella donna più e più volte per poi colpirla e farla fuori a coltellate ma non è finita qua infatti l'uomo le pratica una T sul seno sinistro e le cava gli occhi li mette in un portaorecchini e se li porta via come souvenir la polizia una volta trovati i corpi della famiglia Zazzara rileva un'impronta chiara della scarpa dell'assassina proprio di fronte a casa loro e ritrova anche i proiettili che sono stati usati per colpire la coppia è a questo punto che le forze dell'ordine si rendono conto che i proiettili combaciano con altre tanti proiettili trovati su altre scene del crimine capiscono che i crimini sono collegati e ora sanno che non cercano semplicemente un assassino no cercano un serial e lo sanno benissimo che non si fermerà fino a quando non lo cattureranno forse potrà anche fermarsi per mesi però poi tornerà a colpire quest'ultima aggressione è chiaramente uno dei crimini più violenti di Richard che si placa ancora fino al 14 maggio del 1985 siamo a Monterey Park e Richard entra in casa di una coppia ossia Bill e Lillian Doi Bill è nella sua camera da letto ma quando Richard entra nella sua camera lo vede perché sveglio quindi prova a recuperare la pistola che tiene nel comodino ma non fa in tempo Richard gli spara col pendolo in faccia a questo punto Richard che fa fa le solite cose cerca oggetti di valore nella casa e cercando oggetti di valore entra in camera della moglie di Bill che purtroppo è un'invalida Lillian ecco perché i due dormono separati ahimè per Lillian le cose vanno in modo diverso Richard constringe la donna a consegnargli tutti gli oggetti di valore poi fa violenza su di lei ma qui c'è un fatto Richard non è riuscito a freddare Bill che quindi agonizzante chiama la polizia è così che Richard Ramirez si dilegua Lillian che riesce a sopravvivere ed è messa sicuramente meglio del marito chiama ambulanza e polizia Bill Doi viene a mancare il giorno seguente ma Lillian riesce a dare alla polizia una descrizione sommaria dell'assalitore ossia di Richard arriva il 29 maggio del 1985 quando Richard entra in una casa in cui vivono due signore anziane una di 83 anni di nome Mabel che vive con sua sorella Florence di 81 anni Richard entra in casa loro va dritto in cucina trova un martello e decide che quella è la sua arma Florence poverina viene davvero picchiata brutalmente con quel martello subito dopo Richard va da Mabel la lega e poi fa violenza su entrambe infine Richard trova un rossetto rosso in casa e disegna sia sul muro della camera che sulla coscia di Mabel un pentacolo quello stesso martello viene ritrovato sulla scena del crimine col manico spezzato questo significa che Richard per colpire quella donna ha usato davvero una forza assurda le donne vengono ritrovate solo due giorni dopo e mentre la più giovane Florence si salva Mabel non ce la fa il 30 maggio del 1985 Ruth Wilson di 41 anni viene svegliata da una luce rivolta contro la sua faccia Richard è entrato nella sua abitazione e ora le sta puntando una pistola in faccia le ordina quindi di scendere dal letto e di andare in camera di suo figlio che ha solo 12 anni lega le mani del bambino lo rinchiude nel ripostiglio mentre ovviamente Ruth lo fissa impaurita Richard le si avvicina e inizia a urlare non guardarmi non guardarmi o ti sparo Ruth quindi distoglie lo sguardo e pur di farlo andare via prova ad offrirgli un girocollo d'oro e di diamanti ma Richard non basta infatti le strappa la camicia da notte e fa violenza su di lei anche da dietro però non la colpisce non la fa fuori e in effetti Richard prima di andare via le dice non so perché ti lascio in vita ho già ucciso gente tu non mi credi ma io l'ho fatto così Richard scappa Ruth a questo punto è rimasta sola è spaventatissima libera il figlio chiama il 911 riuscendo a dare una descrizione al quanto importante dell'assalitore un uomo ispanico alto e con i capelli lunghi e scuri la stampa continua a riferirsi a lui con il soprannome The Valley Intruder ma alcuni giornali a questo punto cognano un nuovo appellativo ossia The Midnight Stalker che successivamente diventa The Night Stalker ossia il predatore o cacciatore della notte dopo questo periodo Richard nuovamente rimane tranquillo per un po' la furia riprende circa alla fine del mese di giugno del 1985 il 27 giugno dell'85 Richard fra violenza suona da bambina ad Arcadia il 28 giugno del 1985 viene ritrovato nella sua casa il corpo senza vita di Patty Higgins una donna di 32 anni quest'ultimo crimine in effetti non viene mai attribuito ufficialmente a Ramirez però i sospetti sono davvero molto forti arriva il 2 luglio dell'85 e a meno di 2 miglia da dove è stata trovata Patty Higgins viene ritrovato un ennesimo corpo senza vita il corpo di una donna di nome Mary Louise Cannon di 75 anni gli inquirenti notano che sia Maria Louise che Patty Higgins sono state colpite in casa picchiate in casa e poi inoltre le loro dimore sono state svaliggiate la notte del 7 luglio dell'85 l'uomo entra in casa di Joyce Lucille Nelson una donna di 61 anni che uccide con un oggetto contundente la stessa notte Richard riesce a intruforarsi nell'appartamento di un'infermiera di 63 anni la sorprende a letto le punta addosso una pistola e la obbliga ad andare in bagno dopodiché fruga per la casa in cerca di qualcosa di valore e infine cerca di far violenza sulla donna ma qui succede qualcosa perché Richard non ce la fa non gli funziona l'arnese insomma a questo punto la sorte dell'infermiera appare assegnata però Richard non la fa fuori si limita a prendere gli oggetti di valore e a darsi la gambe il 20 luglio dell'85 Richard colpisce in una nuova area di Los Angeles ossia Glendale Richard entra nell'appartamento di Maxon e le lacneiling e li uccide brutalmente utilizzando un macete che si è comprato qualche giorno prima il corpo di Maxon viene massacrato la sua testa quasi ed altamente probabile che Richard prima di far fuori Lela sfoghi le sue fantasie insomma lo stesso giorno Richard assale un'altra coppia colpisce immediatamente l'uomo di 32 anni e invece fa violenza sulla donna di 29 in seguito la picchia furiosamente non contento arriva anche a far del male al loro figlio di 8 anni Richard Ramirez conclude la serata portandosi a casa un bottino da 3000 dollari tra contanti e preziosi arriva poi agosto più precisamente siamo al 6 agosto quando Richard assale un'ennesima coppia ossia Christopher Peterson di 38 anni e sua moglie Virginia i due però fortunatamente si salvano Christopher è un robusto camionista quindi sebbene si sia preso un colpo di pistola in testa non viene a mancare questo è uno di quei casi che capita una volta nella vita infatti il proiettile non ha danneggiato nessuna struttura vitale tanto che Christopher riesce ad alzarsi dal letto per mettere in fuga l'assalitore ossia Richard l'8 agosto del 1985 Richard colpisce ancora ha puntato un'altra coppia e di notte entra nella loro casa in una nuova zona di Los Angeles chiamata Diamond Bar uccide l'uomo di 35 anni Eliah Abouat nel sonno e aggredisce sua moglie ventotenne facendole giurare su Satana che non avrebbe urlato mentre lui avrebbe fatto violenza su di lei a questo punto Richard Ramirez capisce una cosa Los Angeles è nel terrore più totale la protezione della città da parte della polizia è aumentata e le autorità sono convinte ora hanno a che fare con un serial però non hanno ancora dato nessun annuncio ufficiale in quanto non vogliono far spaventare Richard perché potrebbe cambiare stato poi però ecco che avviene una conferenza stampa con i media in cui tutti questi crimini e tutti questi collegamenti vengono resi noti ovviamente durante questa conferenza viene comunicato alla popolazione di fare attenzione di chiudere bene porte e finestre in quanto questo serial entra in casa delle persone di notte senza alcun metodo non ce l'ha un metodo e infatti in questa conferenza lo dicono il prossimo può essere chiunque dopo questa conferenza stampa Los Angeles va ancora più nel panico ma soprattutto i detective si incazzano e non poco proprio perché sono certi che quell'uomo la conferenza stampa l'abbia vista e ora stai già cercando un modo per allontanarsi o ancora che cerchi di liberarsi delle prove di cui la polizia è in possesso come ad esempio le sue scarpe Richard ovviamente vede questa conferenza stampa quindi sa che tutti lo stanno cercando ma non solo sa anche che la polizia ha delle impronte delle sue scarpe perché in questa conferenza stampa non solo è stato detto ma è anche stato specificato il modello di scarpe Richard si sposta va verso nord e durante la notte del 18 agosto 1985 colpisce a Lake Merced una zona periferica di San Francisco in cui si libera anche delle sue scarpe e le butta in un lago in modo che non siano più collegate a lui le due vittime sono una coppia di origine cinese ossia Peter Pan di 66 anni e Barbara Pan di 64 anni vengono ritrovati in camera nel loro letto intreso di sangue l'uomo come al solito è stato fatto fuori immediatamente la donna nonostante sia stata ferita da dei colpi di pistole sia stata picchiata riesce a sopravvivere ma purtroppo rimane invalida per tutta la vita nell'appartamento della coppia viene anche ritrovato un pentacolo disegnato con un rossetto rosso durante le indagini il proiettile rimosso dal corpo del signor Pan viene ricollegato ad altri due delitti uno avvenuto a Los Angeles e uno a San Francisco mesi prima per non parlare dei precedenti delitti che gli inquirenti hanno già collegato a Los Angeles il proprietario di una piccola pensiera di San Francisco riconosce Richard Ramirez dalla descrizione della polizia e quando gli agenti perquisiscono la camera dove l'uomo aveva alloggiato trovano anche in questo caso un pentacolo disegnato sulla porta del bagno arriva il 24 agosto dell'85 e Richard colpisce ancora ma questa volta colpisce lontano da San Francisco colpisce infatti a Mission Viejo che sta a 50 km a sud da Los Angeles più o meno entra quindi durante la notte nella camera di un ingegnere informatico di nome William Carnes e della sua ragazza Richard spara ripetutamente all'uomo che però non subisce ferite mortali quindi si salva dopodiché come al solito inizia a concentrarsi sulla donna la prende per i capelli e la trascina per tutta la camera poi le lega polse e caviglie con alcune cravate e le chiede se sa per caso chi lui sia la donna terrorizzata ovviamente risponde che pensa che lui sia il serie del quale tutti i giornali e le televisioni parlano Richard è soddisfatto da questa risposta quindi se ne va e gira per casa cercando dei preziosi dei gioielli dei soldi come al solito il problema è che non trova granché quindi torna dalla ragazza ancora più incazzato e quindi fa violenza su di lei per due volte la donna a questo punto indica a Richard un cassetto in cui ci sono dei soldi dei risparmi Richard è alquanto contento di quel bottino ma non è ancora soddisfatto infatti fa dire alla donna per tre volte di fila io amo satana per poi vi r***erla ancora però la cosa strana è che non la fa fuori Richard scoppia in una fragorosa risata e poi semplicemente scappa la donna che era già riuscita a liberarsi da sola ma Richard non se n'era accorto chiama immediatamente il 911 affacendosi dalla finestra la donna vede l'aggressore salire su una vecchia Toyota Station Wagon arancione e infatti questa donna dà alla polizia due informazioni in più quell'aggressore aveva un alito pestilenziale a momenti stava per svenire ma soprattutto sa che autoguida perché l'ha visto quella stessa notte un ragazzo che lavora in un garage vede quella stessa vettura girare per il quartiere quindi si sospettisce e anche lui chiama la polizia il 30 agosto le autorità trovano la macchina di Richard Ramirez e la tengono sotto controllo la mettono sotto sorveglianza attendendo il ritorno di Richard che però non avviene Richard non torna mai sulla sua auto però gli inquirenti trovano delle impronte digitali che lo identificano finalmente quindi ormai la fine dell'incubo è vicina la polizia quindi rilascia immediatamente la foto di Richard ai media per poi fare un'altra conferenza stampa e in questa conferenza stampa parlano direttamente con Richard perché sono consapevoli che Richard segue quelle conferenze quindi gli dicono sappiamo chi sei presto lo sapranno anche gli altri credimi non ci sarà per te un solo posto dove tu potrai nasconderti a questo punto Richard consapevole della situazione insomma messo alle strette prende un pullman per andare in Arizona e chi c'è in Arizona in Arizona c'è uno dei suoi fratelli poi però Richard cambia idea torna indietro preciso suo fratello non sa nulla del The Night Stalker la cosa spopola in California non in Arizona ma nonostante ciò Richard prende il pullman arriva fino in Arizona scende dal pullman e poi torna a Los Angeles e Richard appena torna a Los Angeles ha una necessità deve trovare una vettura con cui spostarsi il 31 agosto Richard entra in un negozio di liquori e rimane paralizzato dal terrore mentre vede la sua immagine trasmessa nei telegiornali e stampata sulle prime pagine dei giornali le persone del negozio lo riconoscono immediatamente quindi Richard scappa corre più veloce che può scappando ovviamente cerca di rubare mano a mano delle macchine però non ce la fa e quindi si ritrova nel quartiere ispanico che non è proprio il massimo della vita diciamo come quartiere Richard nel quartiere ispanico in realtà è convinto di riuscire a muoversi più facilmente peccato che si sveglia di grosso Richard si muove di soppiatto e punta una Mustang rossa perché punta quella Mustang rossa? perché nota che ha la portiera aperta e le chiavi infilate nel cruscotto il punto è che Richard non si rende conto che l'auto è aperta con le chiavi nel cruscotto perché sotto l'auto c'è il proprietario che sta cercando di sistemare un guasto sentendo quindi il motore della sua auto dar gas l'uomo che cosa fa? esce da sotto la macchina va verso Richard Ramirez lo tira fuori di peso dalla sua macchina e lo prende al collo nel frattempo la Mustang la macchina inizia a indietreggiare ma quell'uomo non distoglie lo sguardo da Richard né molla la presa dal suo collo purtroppo a un certo punto l'auto sbatte dall'altra parte della strada sbatte contro un garage facendo un chiasso assurdo e quindi l'uomo diciamo che rallenta un attimino la presa e Richard ne approfitta per scappare e che cosa fa Richard? ferma a caso un'altra auto che stava passando di lì e la ferma perché nota che la conducente è una donna ossia Angelina della Torres ovviamente la donna mica è scema urla per cercare di attirare l'attenzione e in effetti riesce ad attirare l'attenzione di suo marito Manuel che sentendo le sue urla esce di casa stringendo tra le mani una bella mazza di ferro nel frattempo un altro vicino che ha sentito tutto il fracasso chiama la polizia a questo punto Richard prova a fuggire ma Manuel il marito di Angelina della Torres inizia a inseguirlo lo insegue lo bracca lo butta a terra e inizia a prenderlo a sprangate nel frattempo anche una piccola folla e quando questa folla vede che Manuel ha immobilizzato quell'aggressore si fiondano tutti contro di lui andandogli sopra per cercare di non farlo scappare l'arrivo delle forze dell'ordine è veloce ma nonostante questo ci mettono un po' ad arrestare Richard perché rischia il linciaggio dalla folla fanno a turlo per colpirlo gli danno schiaffi i pugni gli sputano addosso gli danno mazzate ma ora ragazzi parliamo del processo il processo di Richard Ramirez è uno dei più lunghi e complessi procedimenti giudiziari dell'intera storia americana sono chiamate a deporre più di 100 testimoni durante i dibattimenti e mentre alcuni faticano a ricordare avvenimenti avvenuti quattro anni prima altri si dicono sicuri che l'assassino sia davvero lui Richard Ramirez il quale comunque si presenta in aula con un bel pentacolo tatuato sulla mano arriva il 3 agosto del 1988 quando il Los Angeles Times riporta la notizia di alcune guardie carcerarie che avevano raccontato di aver sentito Richard dire di voler sparare al procuratore distrettuale in aula con una pistola che intende contrabandare in tribunale di nascosto di conseguenza gli viene installato un metadetector appena entra nell'aula e vengono disposti severi controlli arriva il 14 agosto il processo viene nuovamente interrotto perché una delle giurate Phyllis Singletary non si presenta in aula viene ritrovata più tardi nel suo appartamento uccisa da un'arma da fuoco la giuria ovviamente rimane terrorizzata dall'evento perché nessuno sa se Richard ha avuto indirettamente qualcosa a che fare con questo crimine orchestrando il tutto dalla sua cella in realtà si viene a scoprire in seguito che Richard non è responsabile della dipartita della donna ossia del membro della giuria è stata semplicemente fatta fuori dal suo ex fidanzato che in seguito si suicida e fra tutte queste vicende ecco che spicca Richard Ramirez con la sua risata beffarda i suoi insulti e con addosso quegli occhieri da sole che non si leva neanche quando è chiamato in causa per non farci mancare niente presso il tribunale c'è anche una folla che tifa per Richard le donne lo vanno a visitare in prigione gli scrivono lettere d'amore lo trattano come se fosse il nuovo frontman di una band qualsiasi il punto è che non è così Richard Ramirez è un serial eppure tutte sono convinte sia un bel ragazzo e non è finita qui perché essendo un bel ragazzo è innocente è ovvio no cioè la bellezza è indice sicuramente di innocenza che poi bellezza parliamone insomma in realtà le donne dicono più o meno tutto è questo tutti lo dipingono come uno cattivo ma lui non lo è affatto e solitamente i giornalisti dicono guarda che è accusato di 13 omicidi e queste donne solitano dicendo eh lo so lo so ma secondo me è innocente io sono rimasta senza parola a guardare questi stralci di interviste questo evento ovviamente riporta agli americani le scene che c'erano state durante il processo contro Charles Manson arriva il 30 settembre del 1989 quando Richard viene dichiarato colpevole di 13 omicidi anche se a quanto pare le sue vittime pare siano 14 e altri 30 svariati capi d'accusa che vanno dalla violenza intima al furto prima di lasciare l'aula Ramirez mostra di nuovo il pentacolo sulla mano urlando evil e poi se ne va il 3 ottobre del 1989 dopo 4 giorni di consulta la giuria fa sapere di aver votato per condanna a morte il commento di Ramirez è stato bella roba la morte fa bene ci vediamo a Disneyland il 9 novembre del 1989 Richard rilascia una dichiarazione spontanea e dice questo voi non mi capite e non mi aspetto che lo facciate non ne siete in grado io sono la vostra esperienza io sono oltre il bene e il male legioni della notte stirpe della notte non ripetere gli errori del predatore della notte e non mostrare pietà io sarò vendicato Lucifero dimora in tutti noi a questo punto facciamo un enorme passo avanti arriviamo all'ottobre del 1996 quando Richard si sposa con una giornalista freelance di nome Doreen Lioi con una semplice cerimonia nel parlatorio del carcere di San Quintino a quanto pare Doreen è una grande ammiratrice di Richard gli ha scritto milioni di lettere d'amore lei sostiene che lui è molto dolce la famiglia però la pensa ben diversamente da lei e quindi la rinnega nel maggio del 2004 viene data la notizia che Richard Ramirez sarebbe stato giustiziato mediante camera gas in California nel 2006 peccato che nel 2008 è ancora lì ad aspettare la sua esecuzione l'uomo ha atteso per anni la sua esecuzione nel braccio della morte a San Quintino e mentre tutto questo tempo passa ovviamente gli scrivono una marea di persone lui rilascia varie interviste autografa diverse lettere e ha a che fare con tantissime ragazze soprattutto ragazze innamorate di lui insomma e infatti negli anni sono stati venduti anche su internet degli stralci delle lettere di Richard Ramirez autografati in realtà quello non è un autografo di Richard è la firma di Richard perché scriveva tantissime lettere ne riceveva tantissime ma rispondeva anche a tutte queste lettere nel 2009 il DNA di Richard viene purtroppo collegato ad un'ennesima di partita una bambina Mei Leung era stata trovata senza vita il 10 aprile del 1984 nella cantina di un hotel di San Francisco dove al tempo Richard viveva a questo punto Doreen molla Richard perché insomma su questo crimine specifico qui proprio non ci può passare sopra Richard viene a mancare la mattina del 7 giugno 2013 ma non viene giustiziato l'uomo ha gravissimi problemi di fegato infatti viene trasportato dal carcere all'ospedale è qui e infatti viene a mancare inizialmente si è parlato di insufficienza ipatica successivamente di linfoma di tipo B Richard muore all'età di 53 anni ed è stato nel braccio della morte più di 23 anni detto questo ragazzi questa era la storia di Richard Ramirez spero che questo video possa essere stato di vostro gradimento noi ci vediamo prestissimo al prossimo video io vi mando un bacione mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazzi ciao ragazze grazie a tutti Grazie a tutti.